Ha destato parecchio clamore l'intervista rilasciata da Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, sulla vincitrice del congosto di Capitale della Cultura 2025, al Fatto Quotidiano, giornale di travaglio, prima delle audizioni iniziate proprio stamani con la nostra città, prima ancora al Quotidiano dell'Umbria. Il sottosegretario Sgarbi afferma come «Spero che per la vendesima volta non venga una città del centro-sinistra, perciò mi auguro che arrivi prima una città del centro-destra». Sgarbi aggiunge inoltre che una delle tre finaliste saranno Umbre, tra Assisi, Spoleto e Orvieto, e tra queste la vincitrice sarà proprio la città di Orvieto. Sgarbi risponde inoltre alla domanda se può essere una città piccola come Agrigento, rispondendo «Ma quale C puntini puntini di Agrigento vincerà l'Umbria, che ancora non ha avuto come regione una vincitrice del concorso? Hanno rotto il C puntini puntini», afferma Sgarbi, «hanno fatto vincere sempre Pesaro invece che Ascoli e Vicenza?» Evidentemente che, conoscendo il ministro San Giuliano, non sarà questo il metodo. Il sottosegretario alla cultura Sgarbi afferma come una nota società che vende biglietti per capitale della cultura, lo ha confermato che a vincere sarà Orvieto. Sgarbi ne ha pure sulla commissione esaminatrice del concorso, fatta da persone incapaci che non capisce un C puntini puntini. Le audizioni previste per il giorno 20 e 21 marzo sono slittate per il ministero e è dovuto nominare un nuovo presidente della commissione, visto che il precedente è diventato portavoce del PM, Loni. Al suo posto il direttore del giornale, leggo. Davide Desario, che avrà un compito difficile, afferma Sgarbi, dovrà infatti esaminare i plichi contenenti centinaia di pagine ognuno. Sgarbi, su tale intervista interviene oggi la parlamentare del PD agrigentino, Giovanna Iacono, affermando come queste frasi non sono opera di un commentatore qualunque dei social, ma sono le parole di un sottosegretario del Ministero della Cultura, che cura l'assegnazione del ruolo di capitale della cultura, proprio l'onorevole Sgarbi. Riportate dal fatto quotidiano, che non mi risultano sia state smentite, so il volo sulla volgarità tipica del personaggio, continua la parlamentare agrigentina del PD, ma andiamo al merito, attendiamo chiarezza dal ministro San Giuliano, affinché giustifichi le parole del suo sottosegretario e soprattutto quale sia il metodo con cui si assegna il ruolo di capitale della cultura italiana. E' chiaro che se dovesse aggiudicarsi questo titolo la città di Orvieto, presenterò, continua la parlamentare Iacono, una interrogazione al Ministero affinché fornisca e spieghi cosa è accaduto e perché uno storico esponente del centro-destra si ritenga libero sulla stampa di dire che la competizione risente dell'origine politica dei partecipanti e non si valuti nel concreto la proposta avanzata dal comitato proponente.